E' vero che l'Arsenal viene da un momento di grandissima difficoltà, ma la squadra è in grandissima qualità. Secondo me abbiamo sbagliato tantissimo, specialmente al primo tempo. Siamo partiti bene dopo 7-8 minuti, ma dopo non siamo stati una squadra compatta, troppe 4 contro 4, 5 contro 5, la squadra era spaccata in due e sicuramente abbiamo sofferto la qualità dell'Arsenal, l'hanno meritato. Potevamo fare qualcosa di più, ma non mi è piaciuto, non abbiamo giocato da squadra, avevamo la sensazione che ogni volta che venivano su ci potevano fare male. Penso che la cosa che non mi è piaciuta più è stata questa. Dopo ci sta, in questo tipo di partite, ci sta che soffri un po' la pressione, con qualcosa di nuovo, giocare in Europa e in Italia su due robe totalmente diverse ed era una squadra che ci ha messo in grandissima difficoltà. Nel calcio mai dire mai, sicuramente non andiamo a fare una scampagnata, non andiamo in gita a Londra, ma siamo in Milan, bisogna rispettare la maglia, bisogna rispettare la storia, sicuramente nel calcio può succedere di tutto. È una squadra che oggi sul campo ha dimostrato che a tratti è stata più forte di noi, però secondo me con qualche occasione potevamo anche subire qua più di due gol, ma potevamo anche farlo. Penso che non è finito, però sarà molto molto difficile, ma sicuramente la prepareremo nel modo giusto per andarci a giocare. Grazie. Grazie. Grazie.